ciao a tutti amici e benvenuti alla bianco auto oggi voglio presentare un mezzo un po particolare con a golf gt serie 5 nel 2008 tre porte con solo 119 mila chilometri originali vettura in perfettissime condizioni e colore nero metallizzato ruote in lega da 18 originali guardate che bella vettura perfetta le gomme sono nuove sono state appena cambiate è stata appena fatta la cinghia distribuzione pompa acqua cinghia servizi guardate nonostante la vettura scelta del 2008 è veramente in perfette condizioni guardate che bella spettacolo tre porte molto aggressiva molto sportiva gli interni sono in perfette condizioni vedete guardate sedile dietro il perfettissimo sembra che non sia mai seduto nessuno andiamo a vedere il bagagliaio guardate super una vettura veramente in ottime condizioni a posto di freni a posto di cambio posto di freni a posto di freni che volesse divertirsi a provare ad acquistare un gol gt questa è una vettura meravigliosa stupenda guardate super la vettura ovviamente gli accessori dell'epoca quindi volante sportivo clima automatico radio cd e basta ma tanti cavalli la vettura la trovate da bianco auto a motta di costiglio le dasti venite a vederla venite a provarla perché veramente una vettura che va ancora molto molto bene darà ancora tante soddisfazioni grazie a tutti grazie a tutti